Musica Questa settimana abbiamo fatto composizione, secondo modulo. Stiamo lavorando in particolare su musica per trailer e per film d'animazione. Ho imparato la tecnica del Mickey Mousing, che era associare la musica a degli effetti che succedono a schermo. Abbiamo due consegne. Una è di rifare la soundtrack di una scena di un film d'animazione. Mettere invece l'altra consegna è rifare completamente la musica sotto un trailer. Musica e 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